A disposizione il nostro direttore sportivo Fabio Paratici. C'è chi dice sette palloni d'oro, c'è chi dice anche nella vita privata. Come ho detto prima, l'età non è importante, mi sento bene, mi sento motivato, mi sento emocionante, quindi cerco di fare il mio meglio, come sempre, e spero di iniziare a iniziare la Liga bene e cerco di venire tutti i titoli. È importante che in un momento come questo, dove l'Italia non si è qualificata per rimaniare, un'esclusione storica, sia arrivato nel calcio italiano un giocatore del valore di Cristiano Ronaldo. Io credo che i calciatori, i grandi campioni stranieri, possano fare soltanto bene al nostro calcio. Vinceremo la Champions, sicuro al mille per mille. E' ovunque, anche in Denmark, ogni volta che Juanello parla di Emo. Da un punto di vista di coppe, quindi Champions League, questo potrà essere l'elemento determinante che potrà fare la differenza in campo e anche da un punto di vista di conto economico, perché è un giocatore che appunto è anche un personaggio. Serve a livello internazionale per le coppe, che è quello che manca. Abbiamo visto due anni fa la finale di Champions League, abbiamo visto l'anno scorso la Champions League.